Musica Chiusura e rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice guida Futsmib che segna più 0,89% a 18.285,52 punti. Positive anche le altre piazze europee, sulla scia dei buoni dati, sulla bilancia commerciale cinese e sul mercato del lavoro USA. Londra chiude a più 0,11%, Francoforte più 0,25%, Parigi più 0,11% e Amsterdam più 0,10%. Al termine degli scambi lo spread si attesta a 230 punti base.